Buonasera amici, mi chiamo Debora, questo è un canale di Alta Sartoria Italiana e oggi vedrete il video del playlist strumenti e tessuti anziché fare il solito tessuto, perché attimamente ci siamo concentrati sui tessuti vediamo di nuovo uno strumento in realtà ho colto l'occasione di dover sostituire uno strumento mi si è rotto lo spruzzatore, questo qui per lo stilo e ho pensato perché io che amo tanto i metodi tradizionali non provo a tornare al metodo tradizionale che non era lo spruzzatore ai tempi che probabilmente neanche c'era di plastica o di altri materiali soprattutto anticamente, c'era uno strumento che si chiamava stoppaccio almeno qui a Roma, magari in altre parti d'Italia viene chiamato in maniera diversa oggi vi mostrerò come realizzarlo e come utilizzarlo vediamo insieme lo stoppaccio bene, prendete un tessuto di circa 20 cm x 25 cm e anche 30 cm di lunghezza il tessuto deve essere abbastanza spesso questa è una bella flanella, se fosse un tessuto da cappotto ancora meglio deve essere di lana o comunque un tessuto che trattiene un po' l'acqua perché serve al posto dello spruzzatore quindi serve a distribuire l'acqua sul vostro lavoro, sul capo che state stirando bene, piegate per la lunghezza così, ok? e poi fate una serie di tagli doppi così anche irregolari, non importa che vadano su per almeno 2,5 cm, anche 3 cm ok? così bene adesso arrotolate in maniera molto fitta, molto stretta la parte superiore e lasciate andare quella sotto che comunque anche se rimane ariosa va benissimo, anzi forse è meglio quindi arrotolate bene, in maniera molto stretta la parte superiore e magari prima preparate un filo doppio in un ago grosso con la punta però non quelli da lana ok? perché dovremmo cucire uno spessore notevole non fa niente se non viene proprio piatto qua sotto se si fa questa bolla perché alla fine è uno strumento, ecco, anche abbastanza irregolare vedete com'è sotto? adesso prendete il vostro ago filo doppio e vedete quanto è proprio quello grande quella con una grossa e passate questo grosso spessore facendo una serie di punti, diciamo a cucire a mano non importa se sono irregolari perché non deve essere bello deve essere comodo deve essere utile ok? ok potete anche fare un giro semmai di filo e continuare a cucire in due punti almeno insomma non troppo sopra soltanto perché si è bloccato almeno fino alla metà ok? in questi casi capite perché il ditale è essenziale senza vi fareste veramente male ok bene e adesso per quanto sia brutto sicuramente fatto bene per quanto riguarda la funzionalità adesso vi mostro come si usa bene adesso procuratevi un contenitore in cui tenere l'acqua sempre a portata di mano vicino al ferro d'astino la plastica è più comoda per il fatto che se seccate non rischiate di riempire di vetro il vostro laboratorio però è anche vero che molti utilizzano il fondo delle bottiglie tagliato diciamo che preferite qualcosa di più carino è vero che è brutto questo ma la bruttezza c'è un limite quindi evitate i fondi delle bottiglie per favore prendete un contenitore o di vetro se siete un pochino fissate come me oppure di plastica ma che sia decente mostro come funziona allora prendete il vostro capo lo posizionate come come normale che sia quando stirate e poi imbevete di acqua il vostro stoppaccio e spennellate la pezza ok ci sono casi in cui per esempio dalla parte della tela voi spennellate la tela non c'è bisogno della della pezza lasciate anche in ambollo quello e andate a tirare semplicemente questo è un metodo antico funziona bene e c'è un vantaggio in realtà lo devo lo devo riconoscere al metodo antico che potete indirizzare meglio e lo spruzzo perché in realtà lo spruzzatore fa una macchia tonda invece voi potete andare anche in maniera molto precisa su un singolo punto io lo trovo da questo punto di vista sicuramente migliore bene allora che ne pensate nello stoppaccio lo farete anche voi lo utilizzerete io lo trovo penso anche comodo mi ero abituata con lo spruzzatore però alla fine i metodi tradizionali hanno un loro perché se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi se non lo avete fatto e se gradite comunque imparare l'alta sartoria la prossima volta vedremo nel pantalone come cucire la lampo vi saluto vi do appuntamento al prossimo video arrivederci ciao